Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, siamo qui per fare... Come si chiama? Watson My Eye Watson My Eye Sei una persona normale Ma stai filmando? Sì Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video E siamo qui per fare la Watson On My Dopo tre tentativi falliti Ci si prova con il quarto Chissà se fallirà Buona visione Benvenuti in questo nuovo video Io sono Francesca Spazial Sì, vabbè, lo sapete tutti E siamo qui per fare... Che cosa? Sul telefono Perché non l'ho detto in inglese Perché oggi non è giornata Tipo ho caricato 300 video E non ce la faccio a parlare in inglese E comunque allora iniziamo subito La prima cosa che si nota è la mia cover super sexy Di una calcolatrice che non va E che copre metà mela Che non ha molto senso Però vabbè, la sexaggine del telefono è tutta qui Perché è questo più sexy Davanti pure Però è rotto qui da qualche parte Qui E quindi niente Iniziamo subito Se riesco a mettere la cover Ok, allora Come prima cosa Vediamo Benji e Fede come sfondo Non potevano mancare Non potevano mancare Scusatemi Però sono i miei idoli Poi dopo vediamo subito la mia amicina Sushi Che è qui a tre mesi ed è venuta spettacolarmente La prima cosa che vi faccio vedere È Instagram Seguitemi sul profilo Dov'è che devo andare? Seguitemi qua Mi raccomando seguitemi Frencilina Tratto basso 02 Questo è il mio primo Cosa La mia prima app Poi dopo c'è YouTube Vabbè quello non ve lo sto neanche ad aprire Non vi faccio niente C'è Wattpad Che su Wattpad mi chiamo A nulla E quante notifiche Calmi Ecco su Wattpad Mi chiamo Frenci Tratto basso 2002 Ne ho fatta anche una storia Non dico di chi Però ho fatto una storia Poi c'ho Twitter Seguitemi sul profilo Twitter Mi raccomando Su Twitter Poi dopo Snapchat Anche su Snapchat Seguitemi Aspetta Ok Mi chiamo Frencilina Quindi mi trovate subito E poi dopo Vabbè c'ho Cose per editare i video iMusic Per ascoltare la musica Musical.ly Che non lo uso praticamente mai Perché non lo so usare Poi dopo c'ho Vabbè un altro Per editare i video E Color Che è un giochino finissimo Scaricatelo Vi prego Io faccio schifo Perché come avete visto Zero Poi questo non va Andiamo se riesco a fare almeno un punto Magia Ho fatto un punto Vabbè Poi sono anche lì in contrario Ask Seguitemi su Ask Francesca Spazian Mi chiamo Sì Sono sempre quelli nomi dai mo Poi dopo Su Periscope Che farò dei video Cioè posso fare dei video E voi potete Potete Cioè Vabbè adesso non so dove sono E voi mi potete commentare sotto Mentre faccio il video E per finire C'ho Cioè poi per finire Perché dopo c'è il telefono Whatsapp Safari Musica 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 E c'ho Pokemon Go Che è un giochino Fighissimo Davvero E' veramente bello Come giochino Che te Devi sciudere le uova Camminando Devi Ehm Muoverti Devi cercarlo Qua in zona Il tuo Pokemon Adesso io non sono molto professionista Perché l'ho scaricata da poco Grazie a una mia amica La mia amica che mi sta filmando Si chiama Martina E abbiamo finito Questa Posso chiamare challenge? No Questo video Questo video E vi saluto Alla prossima Ciao da Frencilina